Ciao, sono Floriana e ti do il benvenuto in questo mio nuovo video. Oggi ti voglio mostrare queste due novità che sono uscite di recente di Fabier Lake che sono una cipria illuminante e un blush, si chiamano Incredibles. Guarda che meraviglia! Allora, partiamo dalla cipria illuminante, è in perle. E basta praticamente passarlo con un pennello e potrai illuminare in maniera incredibile la tua pelle, in questo caso, o del viso. Adesso ti mostro invece il blush, eccolo qui, è bellissimo anche questo. Questi colori belli perché hanno le perle che giustamente variano dai colori un po' più chiari, un po' più scuri e quindi fa delle bellissime sfumature. Anche in questo caso passo il pennello e metto il blush sulle guance, basta sorridere un po' e passarle. Bellissime, vi stracontiglio questa nuova linea, veramente bella. Clicco anche i codici, allora il blush, il codice 6532 e invece la cipria, il codice della cipria è 6530 quindi se vuoi ordinarli questi sono i codici se vuoi invece informazioni sulla nostra azienda, se vuoi lavorare con me io lascerò tutto sull'info box e tutti i riferimenti, i miei dati puoi contattarmi su Instagram, su Facebook e lascerò anche il mio indirizzo e mail. Ciao, al prossimo video!